Gossip Uomini e Donne, la scelta di Niloufar, passione a luci rosse in villa? Uomini e Donne Gossip News, arriva la scelta di Niloufar, arriva il verdetto finale. . Arriva la scelta di Niloufar a Uedì, ecco cosè successo in villa. . Le ultime di gossip di queste ore su Uomini e Donne rivelano che Niloufar a dati prima di arrivare a compiere il grande passo ha deciso di trascorrere un po di tempo con i suoi due corteggiatori allinterno della villa, proprio come è già successo a Nicolò Brigante. . 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